La felicità, ecco, qualcuno mi dice ma sempre sta parola ripeti, ma è certo perché è la parola che abbiamo tutti nel cuore e noi ci dobbiamo in un certo senso riconciliare con le parole del cuore, perché spesso certe parole ci fanno paura o ci richiamano a quello che dovremmo essere e che non siamo e la felicità è una di queste parole che desideriamo, ma non sempre abbiamo il coraggio di lottare per essere felici, perché la felicità è una lotta, per esempio l'amore oggi è una parola con cui ci dobbiamo riconciliare, perché al massimo viviamo il sesso, ma non viviamo l'amore, qual è la differenza tra sesso e amore? Il sesso è lo scontro di due corpi, l'amore è l'incontro di due anime, ho detto tutto no? E allora riconciliarci con l'amore per esempio vuol dire dare valore alla sessualità, al corpo, alla stessa genitalità, dovremmo riconciliarci anche con parole come per esempio la sobrietà, in un certo senso la povertà che fa paura, dovremmo riconciliarci con parole come umiltà, dovremmo riconciliarci anche con parole come morte, perché questa parola oggi la si impedisce di dire anche ai bambini, perché bisogna preservarli dalla morte, no, la morte è il senso di una vita per noi, la morte non è un finire, ma è un aprire una porta e immettersi in un cammino, è un nuovo inizio, è una nuova vita, riconciliarsi con le parole per poter essere felici. Diceva Tagore, questo poeta indiano e non solo poeta, diceva che per vivere bene bisogna pensare bene e riconciliarsi con la morte. Quella teologia dei novissimi per esempio, per alcuni aspetti anche un po' così fuorviante, soprattutto quando si voleva fare dei novissimi uno strumento per intimorire, per mettere paura nella gente e quindi poi spingerli alla conversione e a non peccare. La paura non ha mai portato da nessuna parte, la paura non cambia il cuore, ciò che cambia il cuore è l'amore. Allora la teologia dei novissimi che noi oggi dovremmo un po' riprendere anche nella stessa predicazione, poche volte si predica della morte, poche volte si predica del paradiso, dell'inferno, del purgatorio eccetera eccetera, perché forse si ha paura di essere così antichi, no? E il modo con cui predichi, se io voglio predicare ricorrendo ai novissimi perché voglio intimorire, no? E se io invece faccio riflessioni, fondo la predicazione sul Vangelo che è felicità, anche la morte sarà un modo per vivere la felicità e la morte diventerà un modo per arrivare, vivere bene qui, creare qui il paradiso e goderselo dall'altra parte. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!